Trovare un compromesso tra misure di solidarietà e misure di responsabilità. E' questo l'obiettivo dei ministri degli interni dei paesi di primo ingresso dell'Unione Europea che cominciano oggi a Venezia una due giorni di incontri proprio per mettere a punto una strategia comune e unitaria sulla questione migranti. Un passaggio molto importante per il ministro Luciano Lamorgese con i colleghi di Spagna, Grecia, Malta e Cipro spera di riprendere il filo del discorso bruscamente interrotto dalla stagione della pandemia. Si riparte da dove ci si era fermati, dal patto di Malta che aveva tentato di affrontare e risolvere il nodo delle ricollocazioni attraverso un meccanismo di redistribuzione dei migranti su base volontaria. Si cercherà anche un accordo per chiedere con una voce sola l'estensione ai migranti sbarcati dal Mediterraneo del meccanismo di solidarietà applicato per i profughi ucraini che prevede per questi ultimi la possibilità di spostarsi liberamente nei paesi dell'Unione seppur per un periodo di tempo limitato. Intanto però nel Mediterraneo le traversate organizzate dai trafficanti di uomini continuano a provocare vittime e il bilancio dei morti potrebbe essere ben più alto senza l'intervento delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative. Ieri la nave Sea-Watch 3 ha messo in salvo 75 persone in due diverse operazioni di salvataggio a largo delle coste libiche. Si tratta di una missione di pattugliamento appena all'inizio. Nei prossimi giorni è presumibile, viste le condizioni meteo favorevoli, che il numero dei migranti a bordo possa aumentare rapidamente, fino al punto di rendersi necessaria la richiesta di un porto sicuro di sbarco. Proprio su questo tema la ministra Lamorgese chiederà una maggiore collaborazione agli altri paesi rivieraschi. Non può essere solo l'Italia, dice, ad offrire i propri porti alle navi ONG cariche di migranti.